Sapete che con la nuova legge finanziaria è stato introdotto il cashless, ora vi spiego che cos'è ed è fondamentale perché non ci dicono una cosa ai fini della dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo che fa riferimento alle spese di quest'anno. Che cos'è? Il non utilizzo dei contanti, cioè l'incentivazione al sfruttamento del pagamento elettronico, quindi bonifico, bollettino postale, tramite conto corrente, il bancomat, tutta questa moneta elettronica per pagare delle cose che servono noi tutti i giorni. E vi faccio un esempio, ma c'è una cosa che dovete sapere, vi prego fatelo sapere a tutti e condividete il video se vi fa piacere. Per l'asilo, le assicurazioni, anche quella sulla vita, lo stipendio della badante, la palestra dei ragazzi o la piscina, lo scuolabus, l'abbonamento per gli autobus, il veterinario, le gite scolastiche, la mensa, i corsi di teatro, le spese mediche ma non i farmaci, le spese universitarie, addirittura le spese funebri, gli interessi per i mutui, l'affitto per gli studenti fuori sede, c'è una possibilità di detrarre il 19%, come sempre, ma da quest'anno bisogna fare con pagamento tracciabile e questo pagamento tracciabile non basta, perché poi bisogna tenere lo scontrino, ecco cosa non ci dicono, altrimenti l'anno prossimo ci troviamo, al momento della dichiarazione dei redditi, a non poter detrarre il 19% perché non abbiamo ottenuto la pezza giustificativa. Quindi non basta utilizzare per forza il bancomat, il pagamento elettronico eccetera, bisogna comunque tenere lo scontrino, fatelo sapere a tutti, altrimenti perdiamo dei soldini.